L'ha detto la signora che i fulman passano via all'alto Mazzini. Bene, in effetti, uno passa via all'alto Mazzini e scende via all'alto Mazzini. Fin qui, chiaro? Seconda cosa, via all'alto Mazzini non c'è un marcio e piede. Mio padre l'ha rimanato tutte le volte. Mo c'è il marcio e piede. In questo, fate quello che vogliono voi. Però i fulmani e i piedi rimanano là. E non ho parlato di noi. Il fulmane che passa solo di là, il fulmane sale di qua e scende via all'alto Mazzini. Il fulmane è qua che te se fai. No, non è più che ne ho fatto. Allora, cari signori, via Michele Mazzini e la Mazzini sono due parallele. Di là ci sono due marciapieri piccoli, due parcheggi e un doppio senso, giusto? Di qua c'erano un doppio senso, senza marciapiere e senza parcheggi. Vedi, facciate un po' di ruffo.